Dopo 52 giorni di lavoro la rotatoria di via Sallustro è stata consegnata alla città. Stamane all'inaugurazione la presenza del sindaco Peppino Ranalli, della sua vice Luisa Taglieri, dell'assessore e lavori pubblici Stefano Goti, della consigliera provinciale e comunale Roberta Salvati, del comandante della polizia municipale Antonio Litigante. È un momento importante, consegniamo un'opera fortemente voluta dall'amministrazione per risolvere i problemi legati alla sicurezza in calza il sindaco Ranalli. Un grande sforzo da parte dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale con la destinazione di risorse importanti per la viabilità, una risposta alle esigenze di questa zona fortemente residenziale con tanti bisogni e quindi una risposta alla richiesta di sicurezza. C'è ancora qualcosa da fare per quanto riguarda l'illuminazione, ha aggiunto il sindaco, ma stiamo lavorando. L'assessore Stefano Goti ha parlato di priorità. Tutta la giunta comunale è stata coessa sul fronte del miglioramento stradale, sottolinea l'assessore. Una priorità, è una priorità per l'amministrazione perché la sicurezza stradale è la prima cosa, è la cosa più importante, il miglioramento della sicurezza stradale. Nel corso dell'inaugurazione qualche polemica è stata sollevata dai residenti della zona che a loro dire la nuova rotonda creerebbe dei problemi di accesso alle residenze. Una polemica subito smorsata dall'assessore Goti. Sarà eretto infatti un pezzo di strada da via Sallustio, la vicina piazza, per ovviare a problema. La realizzazione della rotatoria chiude un ciclo di lavori che sono stati eseguiti in via Circonvallazione Orientale, via 25 Aprile, via Cappuccini, per quanto concerne il rifacimento dell'asfalto, con un importo di 275 mila euro allocato in bilancio. Con altri 580 mila euro si potrà agire su via Lamaccio, via Le Costanza, via Vavagiovanni XXIII, via Patini, via Gorizia, via Trento, piazzale San Francesco, via Cornacchiola e via Rabona.